Ciao! Allora ho deciso di fare questo video e di dire le otto cose che uso di più al giorno quindi anche gli accessori che uso di più Spero che mi rispondiate in tante e che mettiate anche voi un video dove dite appunto le otto cose indispensabili per voi Io inizio un po' dalle collane Mi sono innamorata di questa collana qui che l'ho presa qui da Valdì Gladi, non mi ricordo e l'ho pagata pochissimo, tipo 4,90€ e guardate, secondo me è molto bella tra l'altro me la metto anche in questi giorni spesso Poi questo è il primo prodotto che però è in competizione con un'altra collana che uso comunque tantissimo che è questa qui che mi avete anche già visto nei scorsi video è questa Guardate che bel colore Questa l'ho presa a Londra l'ho presa da H&M e l'ho pagata allo stesso pochissimo Anche questa è proprio... mi piace tanto Poi ho deciso di fare un altro prodotto Non c'è un'altra cosa, sono gli orecchini Allora, quelli che uso di più sono questi qua Vi faccio vedere meglio Sono questi qua della Braille Braille... mi sembra Tribe Che mi sono stati regalati dal mio ragazzo per i 18 anni e me li metto tutti i giorni Non ce la faccio ad uscire senza Invece per le occasioni speciali mi piacciono tanto questi Li ho presi anche questi da H&M pagati mi pare sui 5-6€ Molto belli, pendenti Infatti probabilmente li metterò a Capodanno E mi piacciono molto questi Poi... Adesso sto dicendo anche i più prodotti perché mi piacciono tantissimo e li uso sempre Comunque questi sono i primi due Poi il terzo Sono i miei guanti Questi Che sono spezzati E mi piacciono molto perché Ho l'opportunità di fare un po' tutto E poi sono comodi E riescono a riscaldare le mani Anche le mie che sono sempre fredde e gelate Poi Un'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo Questa però Ho deciso di dire solo questa E' la maglietta Una maglietta che uso sempre Sempre Adesso no perché la uso d'estate E' questa qui L'ho presa anche questa da H&M Poi tra l'altro questa è abbastanza lunga Come maglietta Io la uso soprattutto con i leggings Che a me piacciono tanto sia i leggings normali Che quelli anche in pelle Li ho appena comprati E mi piacciono tantissimo Questa maglietta l'ho presa Appunto anche questa da H&M E veramente Me ne sono proprio innamorata E ho supplicato mia madre di prendermela Perché era troppo bella E alla fine Fortunatamente me l'ha presa Poi tra l'altro prendo un sacco di roba di H&M Che purtroppo qui a Cagliari non c'è Quindi ne devo approfittare quando parto Allora poi La prossima cosa è la borsa Mi si sta appena regalata dal mio ragazzo Ed è veramente bellissima Da Carpisa La faccio vedere Guardate È proprio di un colore viola scuro E tra l'altro Anche aperta Ci sono un sacco di cose Di scomparti dentro Ci sono tre scomparti dentro Di dimensioni abbastanza grandi Capienti E ci può stare un po' tutto Che è appunto anche questa in competizione E con l'altra borsa Che mi ha regalato invece Mia madre Che io adoro il rosso E che è la borsa Tommy Molto semplice Questa invece ha solo una tasca Anche questa è abbastanza capiente E mi piace tanto Poi Mi piace la sciarpa Questa anche Questa mi è stata appena regalata E la sto mettendo già tutti i giorni Ed è questa qui È il mamma Mi sembra che l'havia presa da batta Si l'ha presa da batta Ed è veramente È morbida E riscalda un sacco Quindi questo È l'altro mio prodotto Poi a quante siamo arrivati? Uno, due, tre Quattro Cinque Cinque siamo arrivati Poi i jeans Allora A me piacciono tantissimo I jeans diesel E quelli che uso di più In assoluto Sono questi qua Sono questi qua Proprio colore Molto chiaro Di jeans Che sono abbastanza Colore qui Proprio jeans A me piace tantissimo Anche questo Non l'ho pagato neanche tanto L'ho pagato sui 50 Forse 60 euro In tutto Secondo me Per un jeans Va benissimo Poi L'orologio Anche l'orologio Mi è stato appena regalato Nel mio ragazzo E ve lo faccio vedere subito Ce l'avevo già Inganciato Allora È della Cronotec Ve lo faccio vedere Secondo me È bellissimo Nero C'è un po' di riflesso Questo è l'altro mio prodotto Uno dei miei prodotti preferiti Allora A che numero sono arrivata Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Sette Otto Otto Mi sembra che li ho detti tutti Sì Quindi questi sono i miei prodotti Anzi no Sono le cose che uso di più Tutti i giorni Fatemi sapere invece Quali sono le vostre Preferirei che metteste un video Così un po' condividiamo tutto E niente Fatemi sapere un po' voi Un bacione Ciao